impennata coronavirus 84 contagi nelle marche metà nell'ascolano caso di covid nello staff della vispesero rinviato a domani il match con ravenna premi agli eroi del covid firmata conciliazione fra sindacati e altri fiere del tartufo acqua lagna annullata sant'angelo invado confermata una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera con tutte le notizie più importanti della provincia di pesaro e urbino questo telegiornale di mercoledì 7 ottobre si apre con i dati riguardanti il coronavirus perché oggi si è registrata una rilevante impennata di contagi nella regione marche per lo più circoscritta nella provincia di ascoli piceno analizziamo i numeri aggiornati nel nostro primo servizio di oggi impennata di casi di coronavirus registrati nella regione marche sono ben 84 i nuovi casi positivi al contagio rilevati nelle ultime 24 ore certo sono aumentati i tamponi effettuati ben 2517 divisi fra i 1524 del percorso nuove diagnosi e 993 del percorso guariti ma il salto resta comunque enorme e colmo di interrogativi un balzo considerevole rispetto ai 35 casi di ieri e ai 22 del giorno prima un salto a 84 casi che riporta indietro addirittura alle inquietanti settimane del lockdown perché per tornare ad una giornata con così tanti casi di coronavirus bisogna addirittura riavvolgere il nastro della pandemia fino al 16 aprile quando se ne registrarono 86 preoccupante soprattutto l'impennata di casi nella provincia di ascoli piceno dove se ne sono registrati oltre la metà ben 46 va ora indagata la motivazione di questa moltiplicazione di casi ascolani che pare per lo più circoscritta a contatti in ambito domestico e scolastico più contenuta invece la crescita nel pesarese 12 casi come i 12 registrati nel maceratese sette nuovi casi invece in provincia di ancona e sette in quella di fermo in pratica c'è stato un testa coda rispetto alla fase 1 della pandemia quando la stragrande maggioranza dei contagi erano concentrati nel nord della regione mentre ora pesero ancona vengono toccate dal virus in maniera più contenuta il dato degli ospedalizzati racconta che invece nelle marche ci sono attualmente 36 ricoverati uno in più di ieri di cui 5 in terapia intensiva e purtroppo il coronavirus entra anche nel mondo sportivo condizionando l'andamento dei campionati in particolare oggi si è registrato un caso di positività al covid 19 ad un membro dello staff del vispesero motivo per cui la partita con ravenna di campionato che era in programma questa sera alle 20 e 45 è al momento rinviata a domani alla stessa ora l'annuncio è arrivato nella tarda mattinata di oggi è stato rilevato un caso di coronavirus nello staff della vispesero il tutto a poche ore da una partita di campionato prevista in turno infrasettimanale e che era in programma questa sera ma oggi ravenna vispesero non si giocherà è stata rinviata a domani giovedì 8 ottobre alle 20 e 45 una posticipazione arrivata nel pomeriggio come conseguenza di tutte le accortezze derivate dai protocolli anti covid la vis non ha rilevato l'identità del caso positivo al contagio limitandosi attraverso un comunicato a dire che si tratta di un componente dello staff tecnico risultato positivo al covid 19 al termine della elaborazione dei tamponi effettuati lunedì 5 ottobre componente dello staff che ora è stato isolato e posto in quarantena ieri sera la vis ha ricevuto i risultati dei tamponi e oggi è scattata la procedura che ha portato a notificare la positività al contagio sia la lega pro sia agli avversari del ravenna anche per questo motivo tutto il gruppo squadra vissino ha rimandato fino all'ultimo la partenza per la trasferta comunque poco distante che era prevista questa mattina la partita è al momento rinviata domani alle 20.45 ma data e orario per essere confermati hanno bisogno del nulla osta derivato domani dai risultati di un altro giro di tamponi nella speranza di rilevare la totale negatività del gruppo squadra in src il protocollo prevede tamponi ogni quattro giorni ma in questo caso sono stati anticipati per avere il via libera alla partita rinviare a domani il match con ravenna dove si giocherà a porte chiuse significa anche rinviare la successiva partita vispesero matelica che era in programma allo stadio benelli di pesero sabato 10 ottobre alle 20.45 si giocherà invece il giorno dopo domenica 11 ottobre alle 17.30 quello registrato oggi è il secondo caso di coronavirus alla vispesero arrivato sette mesi dopo la positività al covid del calciatore andrea tessiore avvenuta lo scorso marzo cioè prima del lockdown e prima della sospensione del precedente campionato allora i contagi non si propagarono in altri elementi della squadra si incrocia le dita che vada così anche in questa occasione è stato firmato oggi in prefettura un verbale di conciliazione fra le sigle sindacali della sanità provinciali e una rappresentanza di asur e area vasta 1 in merito ai premi pattuiti e finora disattesi per gli eroi del covid una firma avvenuta alla presenza del prefetto vittorio lapolla i sindacati si sono detti moderatamente soddisfatti per un documento che inserisce criteri oggettivi nella valutazione delle ripartizioni delle risorse regionali criteri che dimostrano dunque come la diversità d'impatto della pandemia sia stata di particolare entità a pesaro rispetto alle altre province prima di entrare in prefettura i sindacati hanno esposto le loro ragioni davanti alle telecamere di rossini tv oggi siamo convocati dal prefetto di pesaro urbino in ambito dell'avvertenza dei dipendenti dell'area vasta 1 che ancora ne sono visti pagati il premio covid e tutte le altre competenze collegate alla retribuzione accessoria l'area vasta 1 è stata la più colpita dal covid e dalle conseguenze del covid e quindi sui loro su questi dipendenti è gravato il peso maggiore la nostra richiesta al prefetto e alla controparte quindi alla direzione generale dell'asure all'area vasta 1 e di corrispondere un premio dignitoso ai dipendenti non può essere considerato un premio il pagamento delle ore di straordinario e delle indennità di malattie infettive che sono previste contrattualmente e che aspettavano comunque i dipendenti ad oggi non ci sono le risorse per pagare questo premio noi chiediamo una ridistribuzione delle risorse che dia dignità al lavoro dei nostri dipendenti i patti sono stati disattesi non sono stati mantenuti i patti già presi in un tentativo di conciliazione quasi due anni fa davanti al prefetto a oggi stiamo qui per rivendicare sia il passato e sia l'attuale quindi premialità covid e a oggi non abbiamo avuto ancora risposta da l'area vasta 1 e dall'asur in quanto alle richieste che abbiamo fatto ripeto per dare dignità ai lavoratori noi oggi siamo qua perché abbiamo mantenuto il patto con i lavoratori di arrivare fino in fondo per far avere e mantenere i propri diritti a fronte di quello che abbiamo letto sui giornali e che abbiamo letto nelle delibere di giunta perché a fronte di possibili premi di natura consistente per gli amministrativi della regione è inaccettabile che ancora non riceviamo risposte dalla regione da asur rispetto al giusto riconoscimento economico per chi nei mesi di febbraio marzo aprile ha garantito la tenuta in uno stato di emergenza totale quindi se oggi non avremo la risposta che ci aspettiamo saremo costretti poi a valutare con i lavoratori altri percorsi per rivendicare il dovuto io quello che vorrei aggiungere è solamente questo leggiamo anche oggi sui giornali che sono state pagate le primarità ai dirigenti io credo che questa sia stata una cosa veramente veramente scandalosa nel momento in cui non riusciamo a far per avere qualche soldo a quelli così chiamati ex eroi noi ci troviamo di fronte al fatto che i dirigenti hanno preso fiori di soldi e questa credo che sia una cosa molto molto deplorevole rispetto a chi lavora giorno e notte dentro gli ospedali noi ci auguriamo che oggi si riesca a trovare una soluzione in termini di conciliazione ad urbino quattro giovani ritenuti responsabili di una rissa degenerata in lesioni necessarie di cure ospedaliere sono stati denunciati a piede libero a seguito di una indagine dei carabinieri della compagnia di urbino la rissa in questione si è consumata lo scorso 18 settembre nel cuore del centro storico e in particolare in piazza della repubblica in corso di accertamento i motivi scatenanti una colluttazione che sembra aver coinvolto opposte fazioni di studenti per futili motivi tre denunciati sono ragazzi del territorio provinciale il quarto è invece di fuori regione ad inchiodarli una serie di testimonianze e il supporto delle immagini di videosorveglianza della piazza tragedia sfiorata ieri al parco miralfiore dove una ragazza di 22 anni originare di civita vecchia è collassata in overdose da eroina un passante la vista ha chiamato l'ambulanza che ha portato la ragazza all'ospedale di pesaro ragazza che è stata rianimata non è in pericolo di vita ma è rimasta in ospedale per tutti i controlli del caso sulla vicenda indagano i carabinieri dai carabinieri alla polizia a fermignano gli agenti del commissariato di urbino hanno invece arrestato un 24enne dopo che una serie di indagini una perquisizione domiciliare hanno portato a sorprenderlo con ben 770 grammi di marijuana destinati ad attività di spaccio il 24enne è stato condannato a dieci mesi di reclusione con sospensione della pena per la prima volta dopo 54 anni non ci sarà la fiera del tartufo di acqualagna lo ha deciso la giunta comunale convocata ieri in sessione straordinaria che ha deciso il rinvio per il 2021 una decisione sofferta ma ragionata nel contenimento dei rischi al contagio da covid decisione invece diversa a sant'angelo invado dove invece si terrà la 57esima edizione della mostra nazionale del tartufo bianco delle marche le ragioni della conferma e il programma della rassegna ci vengono illustrati dal nuovo sindaco di sant'angelo invado stefano parri e dall'assessore massimo guerra a tre settimane questa è la terza settimana dell'insediamento perché di fatto dal 23 settembre che siamo operativi in comune le prime la prima cosa che era la prima scadenza che avevamo era quella di eventualmente impostare il discorso sulla festa nazionale del tartufo bianco sulla mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle marche come diceva l'assessore prima e c'era già una macchina organizzativa in moto quindi abbiamo tra virgolette aderito abbiamo avviato ecco abbiamo mantenuto quello che era stato già il un inizio organizzativo della dell'evento che comunque è affidato un soggetto esterno quindi senza stravolgere l'organizzazione senza stravolgere le modalità di svolgimento della mostra stessa quindi l'approccio è stato quello soft chiaramente chi già lavorava all'organizzazione aveva già preso accordi commerciali aveva già venduto spazi espositivi per le quattro settimane quindi non non eravamo in grado di rimettere in discussione un po tutta la macchina organizzativa che era stata già intraprese quindi siamo andati avanti sulla su quella linea lì d'altro canto potevamo stoppare tutto no perché poi avevamo eravamo di fronte a un bivio o stoppare tutto come hanno fatto alcuni comuni oppure mantenere la festa la mostra nazionale del tartufo dobbiamo tenere la riflessione che abbiamo fatto è quella di la scommessa è di tenere insieme due esigenze quella primaria della salute pubblica con quella comunque delle attività commerciali che in questo periodo qua fanno gli da uno sostentamento importante quindi la scommessa è questa appunto mantenere insieme queste due opposte esigenze e conquistarci ogni weekend che sarà fatto quindi un approccio step by step quindi settimana dopo settimana con un monitoraggio continuo di quella che è la attuale situazione sanitaria questa presentazione arriva l'indomani della rinuncia da Qualagna ha la tradizione e la cosa che lui ci conforta è un territorio di diverso rispetto a a Qualagna è una conformazione della mostra che è completamente diversa da quella di a Qualagna non so se avete avuto modo di vedere chiaramente quella di a Qualagna si svolge nella piazzetta poi c'è il famoso tendone dove ci sono gli espositori da noi è un c'è un centro storico che è un centro commerciale naturale diciamo così quindi è un centro storico che si presta molto alle attività commerciali e la maggior parte della nostra mostra nazionale si svolge all'aperto quindi gli eventi sono tutti all'aperto e quindi ecco da questo punto di vista qua forse siamo un po più il territorio ci agevola un po' ci agevolate un più in quella che è stata la scelta di avviare la mostra nazionale del tartufo bianco abbiamo quattro fine settimana vero ma sono quattro momenti anche diversi dove comunica è ormai veramente un ottimo partner organizzativo e ha organizzato tutto veramente nella maniera diciamo più perfetta che si potesse ottenere e abbiamo come caratteristica il primo fine settimana abbiamo oltre l'inaugurazione il sabato pomeriggio con la stark che farà uno spettacolo di luminotecnica in piazza umberto primo che l'anno scorso ha riscosso un grandissimo successo la prima domenica abbiamo un raduno di auto d'epoca poi nel secondo fine settimana che era il secondo fine settimana caratterizzato dal motoraduno internazionale i raduni motociclisti che la federazione la federazione motociclistica italiana l' fmi li ha annullati però sappiamo con certezza perché poi le strutture ricettive sono tutte piene con le prenotazioni fatte da tantissimo tempo che comunque avremo dei motociclisti e allora non possiamo che poterli accogliere al meglio facendo una piccola festa legata appunto queste persone questi amici che vengono a trovarci il terzo fine settimana poi sarà il la settimana legata al tartufo d'oro dove eravamo abituati a dare anche gli organi di stampa e di televisione tanti personaggi che venivano sant'angelo che stanno ovviamente dovremmo ridimensionare anche questa manifestazione per ovvi motivi e sarà una manifestazione comunque dove cercheremo di premiare personaggi sia di carattere politico per ridare un po quel senso politico che sant'angelo in vado deve avere nell'ambito anche della promozione del tartufo della valorizzazione ma personaggi dello spettacolo che hanno saputo aiutare la regione Marche quindi andremo un po più solo specifico andando a ringraziare coloro che hanno reso la nostra regione la bella regione nella quale viviamo il quarto fine settimana infine sarà il fine settimana della fiera del tartufo dove la fiera del tartufo è una fiera non diversa dal resto ma una fiera merceologica con degli ambulanti degli stendisti che vendono generi di ogni tipo e nei quattro fine settimana da segnalare il secondo fine settimana il 18 ottobre con l'inaugurazione della mostra gli ori di sant'angelo in vado fatta da don davide tonti che è una mostra che parla di una tecnica antichissima di realizzazione di manufatti in oro con la tecnica degli etruschi una tecnica che si è tramandata in maniera misteriosa perché non si hanno non si sa perché questa situazione si è andata avanti nei secoli ma di fatto sant'angelo in vado era l'unico paese al mondo in grado di poter realizzare oggetti con questa tipologia di manifattura e una situazione che voglio evidenziare e anche mi sento di ringraziare per il loro apporto è la proloco di sant'angelo in vado che fa la seconda edizione di arte al cubo che è un contenitore di arte cultura sapori e quant'altro e lo faranno in piazza più dodicesimo quella che noi chiamiamo piazza del duomo venerdì 9 ottobre alle ore 10 le agenzie di viaggi di pesero si incontreranno davanti alla sede del comune per consegnare al sindaco i dati relativi alle vendite e alle partenze dell'anno 2020 una manifestazione di protesta per richiedere ancora una volta l'esenzione dalle tasse comunali per le agenzie di viaggio esistenti una protesta scattata dopo che il comune ha indetto un bando per le nuove attività con l'esenzione delle tasse comunali per tre anni le agenzie scrivono di ritenere indegno aiutare chi ancora deve nascere e non aiutare chi da anni contribuisce allo sviluppo della città marche multiservizi effettuerà lavori di collegamento della nuova condotta posata in strada ferriera nel comune di pesero l'intervento comporterà una interruzione dell'erogazione dell'acqua o dei cali di pressione nella giornata di domani giovedì 8 ottobre dalle 14 alle 18 e 30 in gran parte delle strade di santa maria dell'arzilla e della zona industriale di monbaroccio in caso di maltempo l'intervento sarà rinviato sono state svelate le giornate fai d'autunno che aprono alle porte dei visitatori tesori e luoghi del territorio normalmente chiusi al pubblico l'edizione 2020 è dedicata alla memoria di giulia maria crespi scomparsa lo scorso luglio un'edizione straordinaria visto che saranno ben due i weekend previsti sabato 17 domenica 18 ottobre sabato 24 e domenica 25 ottobre con 35 aperture straordinarie nelle marche a contributo libero fra i luoghi da scoprire nella provincia di pesero urbino ricordiamo l'abbazia di san michele arcangelo a lamoli l'oratorio dell'ascensione al palazzolo di pergola villa cattani stuart di pesaro palazzo bracci di fano mentre a urbino la pieve di santo stefano di gaifa e la torre brombolona di canavaccio il 14 ottobre la carovana del giro d'italia passerà a pesaro con i suoi 176 ciclisti e affronterà le colline del san bartolo il giorno prima il 13 ottobre l'evento sarà preceduto dall'inaugurazione della mostra alle ore 18 pesaro saluta il giro d'italia 2020 la storia della corsa rosa una mostra che si terrà al centro arti visive pescheria in collaborazione con l'associazione culturale italian legend bicycle l'esposizione presenta fino al 18 ottobre 60 biciclette da corsa dei grandi campioni del pedale costruite dal 1900 fino ad oggi fra questi anche alcuni magnifici pezzi d'epoca come quelli in ferro acciaio dei primi protagonisti della due ruote come girardengo pancera binda e guerra esposti insieme alle bici di coppie bartali degli anni 50 e a quelle degli anni 70 di gimondi e merckx in mostra pure la mitica due ruote con cui marco pantani vinse il giro d'italia e il tour de france 1998 la città di cagli rende omaggio al genio artistico di eugenio gege giordani il pianista compositore e ingegnere elettronico scomparso lo scorso aprile a 65 anni verrà commemorato venerdì e sabato al teatro comunale di cagli con l'evento una costellazione sonora che è stato presentato oggi al museo nazionale rossini di pesero venerdì ci sarà la dedica in musica del concerto dell'organo ammond di gianni giudici mentre nella prossima intervista è sandro pascucci presidente dell'istituzione teatro comunale di cagli a ricordare giordani e la due giorni a lui dedicata conoscevo eugenio giordani dai tempi del conservatorio quando lui entrò a dirigere il laboratorio di musica elettronica poi ci siamo rivisti dopo tantissimi anni a cagli lo scorso anno per un convegno internazionale sul si sound che è un sistema di nuovo elettronico di composizione ci siamo rivisti a gennaio con la sonosfera che è una creazione assieme a Walter Monacchi molto suggestiva molto bella con l'impegno di rivederci purtroppo il covid ha fatto anche questa vittima tra le tante che ha fatto a cagli c'è una tradizione anche legata alla musica contemporanea per cui ci è venuto naturale questo omaggio questa memoria questo momento dedicato a eugenio per le relazioni anche con alessandro petrolati che è un suo collaboratore degli ultimi anni e anche con la storia ripeto che cagli ha col suo teatro legata alla musica contemporanea fernando mencherini un compositore anche lui prematuramente comparso scoda nibbio ahimè stiamo parlando di grandissimi personaggi della musica contemporanea che non ci sono più grazie al cielo il teatro ci consente di recuperare una presenza creativa di queste persone ci manca il contatto umano però diciamo l'umanità e la creatività di Eugenio Giordani in questi due giorni sarà manifestata nel migliore dei modi attraverso un grande organista come Gianni Giudici che venerdì sera si cimenterà con l'organo Ammon e il pianoforte dedicando il suo concerto direttamente a Eugenio Giordani sabato dalle 10 alle 18 faremo una sorta di tavola rotonda convegno incontro con i vecchi e i nuovi amici di Eugenio Giordani una serie di testimonianze di lavori anche dedicati al suo prodotto poetico compositivo e alla sera un programma tutto dedicato alle sue composizioni quindi io come presidente dell'istituzione teatro sono doppiamente contento di fare questa iniziativa l'appuntamento è per venerdì 9 alle ore 21 col concerto di Gianni Giudici sabato dalle ore 10 alle ore 18 nel ridotto del teatro comunale di Cagli sabato 10 e alle 18.45 un intermezzo con una composizione di Fernando Mencherini compositore cagliesi curata dallo stesso Giordani e alla sera una serie di composizioni tutte realizzate da Eugenio vi aspettiamo davvero 9 e 10 ottobre teatro comunale di Cagli ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV che alle 21.15 con replica alle 22.30 vi proporrà lo speciale del convegno che si è tenuto in questo weekend il benessere della donna in menopausa passa dall'approccio multidisciplinare l'informazione su Rossini TV vi ricordiamo che torna puntuale domattina alle 7.20 con la rassegna stampa Buongiorno Rossini per tutte le segnalazioni invece vi ricordiamo sempre il nostro numero whatsapp dedicato 370-366-7210 è davvero tutto per questa serata noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV e vi auguriamo una buona continuazione di essere